Nel serpente allora C'è un toro Anche a me Mi ha spedito tipo Benvenuti in solita stories Oggi il nuovissimo gioco è appena uscita Un nuovissimo gioco di roblox Questa volta staremo nel far west Nel deserto Con i cowboy eccoci qua ci vedete Ma siamo dei banditi Perchè io non ho la maglietta Perchè qui la maglietta io non ho maglietta Ma non è vero i capelli Ma che succede Sei una bandita ricercata Wow io voglio i miei capelli e la mia maglietta Vabbè comunque Abbiamo già il cappello da cowboy E anche la bandana C'è qualcuno qui Tra l'altro un bandito come noi E' più piccolo però vedi Allora cosa sta succedendo io non so Niente di questo gioco è appena uscito Ma sembra bellissimo Praticamente siamo dentro a una prigione C'è una prigione Quindi è vero siamo dei banditi Quindi dovremmo scappare dalla prigione del vecchio west Allora qui ci sono delle Vedi le serrature che sono bloccate però Dobbiamo trovare la chiave Guarda la chiave è laggiù Vedi è lì Appesa al muro quindi dobbiamo cercare Di forse attirare l'attenzione della guardia E rubarle la chiave Proviamo a salire qui sul letto Se non avete ancora lasciate un mi piace Lasciate un mi piace Allora dentro 3 secondi 3 2 1 Adesso Io provo a scappare da qua sotto Ciao Io sono già uscito dalla prigione Ma come è possibile che nella prigione Si dimenticano di questo buco in cui si può scappare Che bello Stiamo nel deserto Allora vediamo qui c'è il saloon Wow questo è il bar dei banditi Vediamo com'è voglio esplorare tutto E' deserto anche il bar Guarda sto suonando il pianoforte Non c'è nessun suono No Ma perché erano la maglietta Oppa Non lo so c'è qualcosa di strano Forse sta per arrivare una tempesta Aspetta Di sabbia Dobbiamo andare di qua però Vedi c'è qualcuno qui Ehi aspetta io cerco un cavallo Così facciamo più veloce Attenta a non cadere dai barili Aspetta ai barili Qua c'è una gabbia vuota Ah questa è la prigione da dove siamo usciti Si Non si può rientrare Attenta a non sfragellarti Wow Che bello essere nel deserto Ehi ma tu dove sei? E come mai non ti sei ancora sfracellato? Quante volte sei sfracellato? Perché l'hai appena detto E mi sono sfracellato nelle sabbie mobili? Peccato che non ti ho visto Uffa Ecco Vitale con il suo cappello da cowboy Ma io sono l'unica senza una maglietta Uffa Copriti Oh no Ehi sono caduta ma non mi succede niente Guarda Che strano adesso sprofondi nelle sabbie mobili Guarda vedi che Ahahahahah Le sabbie mobili Ok allora Non cadere nella sabbia perché sono sabbie mobili Eh già Me ne sono accorto io già E invece di sfracellarti mi risucchiato Eh si Non ci credo che Vitale mi ha superato Devo raggiungerlo Dov'è? Che cosa è successo? Ti capito nelle sabbie mobili? Attenta non lo so perché ma quelle sabbie Ma perché mi sono sfracellato così tante volte Sì perché? Perché le sabbie sono mobili quindi Il carrello Per le sabbie mobili Ahahahahah Sembra di essere Ma non ci credo Sei una schiappa Dicevo Sembra di essere in Indiana Jones Vero Abbiamo anche lo stesso Cappello Vabbè non ci credo Incredibile in questo escape room Anita si sta sfracellando più volte di Vitale Allora andiamo È difficilissimo Ho capito il trucco Bisogna andare pianissimo Ah ma tu sei ancora lì Io ero arrivato avanti già Ancora lì Sì No anch'io sono dietro di te Dove bisognerà Bisogna saltare sui bordi Stai attenta Ok Prima superato Salta sempre sui bordi Sei riuscita Ma non ci credo Evviva Vediamo qual è Vitale tra quelli Eccolo quella con la maglietta gialla Vediamo quanto ci mette a cadere nelle sabbie mobili Allora sono l'unico che è sopravvissuto qui Tutti gli altri sono caduti Allora Vediamo Primo salto qui Poi Dai puoi farcela Non toccare la sabbia Nooo Lasciate un mi piace per portare fortuna a Vitale Vediamo Lasciate un mi piace qua Ci riusciremo E vediamo se ha funzionato il vostro mi piace Vediamo L'ultimo Dai Non toccare la sabbia No Non toccata Ce l'ho fatta 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 E ora? Che succede? Dobbiamo salire qui? Nooo Qualcuno è caduto? Non mi dire che devi iniziare tutto da capo? Ah ok No meno male Cosa di strano in queste scale? Non riesco a salire bene Ecco Ehi E ora? Bisogna salire qua sopra Nooo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Nooo E' vero è difficile saltare qui No Sei riuscita? A cadere Sii Hai chiuso non è riuscita Sono dietro di te Evviva E ora? Ehm dove dobbiamo andare? C'è una chiesetta qua C'è anche un cimitero Wow Ehm Quindi non so Dovremmo entrare qua? No qui è chiuso E dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Forse ho capito C'è un cavolo là sopra Guarda Oh no Dovremmo arrivare Guarda c'è una scala qua Ok ok andiamo andiamo C'è un'altra scala Uh Sul campanile Wow Che bello Wow Fighissimo Vediamo Vitale che scende Sbattuto E' stato super divertente Credo che questa sia dinamite Ehm E questa che cos'è? Allora Ehm Oh un capello Credo sia dinamite No non lo posso prendere Ehm Allora bisogna salire su questi Ehm dobbiamo salire sopra e farci trasportare Vedete Si è buttato Attento E poi Dove devo saltare? E' qua Attento E' molto difficile qua Devi stare attento Ok va bene Ehm saliamo qua Attento non cadere giuuu Ma no mi dire Wow ce l'ho fatta non ci credo Io no Dai puoi farcela Eh son caduto Oh no Ecco Vitale Attento Tra poco devi saltare Vai 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 Wow Si ce l'ha fatta Di qua dobbiamo andare? Di qua? Wow Bravo Attento qua non toccare quella cosa nera Ma che cos'è? E' petrolio? Petrolio si attento Quindi dobbiamo saltare sui cactus E sulla dinamite Nooo Peccato che non l'ho visto Sfracellarsi Nooo Si è sfracellato qualcun altro però Pure tu Anch'io mi sono sfracellato Nello stesso momento Questo escape room Sembrava facile Ma non è facile Fericita? Ce l'ho fatta Qua c'è la miniera d'oro Arrivano Dai ti aspetto così andiamo assieme Eccomi ce l'ho fatta Eccomi ce l'ha fatta Sfracellato diecimila volte Pronto a saltare Vai La miniera d'oro Salta Eccomi Ah pensavo Pensavo che si muovesse Invece no Dobbiamo andare noi Vai Ma c'era la C'era la rotaia lì E forse devi prendere più rincorsa Vediamo Wuhuu Siiii Per fare vitale Dov'è? Sempre con le braccia così Quindi qua il pavimento è lava Ok Che figo Adoro questo tipo Wow Stavo scherzando Che ti sei bruciata Ehi Come hai fatto ad andare così veloce Eh Perché io sono bravo Nell'escape room Pfff Non è vero? Nooo È difficilissimo Dove sei? Guardate Di te Ma perché mi porti sempre sfortuna Ogni volta che dici Guardate vitale Guardiamo vitale come cade Cado Ok ce l'ho fatta Saliamo qua Dove sei tu? Dietro di te Che sto raggiungendo Wow Il ponte Oh oh C'è un perfente gigante qui Non ero io Non ero io Non ero io Oh che carino Attento potrebbe morderti Questa che cos'è? Mmm Non è una cosa buona Ma dove bisogna? Ah sui teschi Attento Devi solo saltare sui teschi Si Non su quella cosa verde E con la tua serpente Sono troppo carini questi serpenti Sono dei serpenti Sono dei serpenti simpatici Attento Si si Siamo qui dietro di te Woo Bisogna passare da sotto forse? Si si può passare da sotto Eh ma è più bello passare da sopra Ok allora sono qui su questo tracciato del Wow i lingotti d'oro sono caduti qui Si è rotto vedi E noi dobbiamo salire si sui lingotti d'oro Ah sui lingotti d'oro dobbiamo andare Adoro ma quanto è bella questo escape room Mi piace proprio l'ambientazione indiana jones Ah la ci sono Qualcuno si è sfracellato No anch'io mi sono sfracellato lì Ci sono degli scorpioni di là Ok allora attenta bisogna andare dall'altro lato eh Vai a destra Ah è vero quella era una trappola andare di là Eh si Guarda li vedi? Eh si li vedo Si muovono anche Ah che schifo E' proprio l'indiana jones Che brutti Be 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 Almeno non si muovono C'è nel senso non camminano Te 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 UVA Ufff Ok superati E come faccio a saltare fino alla Nooo Ah ecco Vediamo Vitale Ma c'eri quasi risponde E' anche tuo Forse non è questa la strada Si è quella perché vedi che c'è la freccia dietro con il serpente laggiù ci aspetta la bocca del serpente hai visto? oh no dici che ci mangerà sei riusciti? si sono riusciti ci siamo ti ha risucchiato il serpente ancora no ok nel serpente allora il serpente ha mangiato delle uova cos'era questo rumore? uova gusci di uova ok sono riuscito a passare aspetta però qui c'è qualcos'altro wow che cosa sono queste cose? cervella osso c'è un osso beh dopo tutto è un serpente gigante quindi ha mangiato qualcosa di gigante aspetta che cosa? qua penso che bisogna passare quando si toglie questa cosa ce l'ho fatta sono tipo i valsi sanguigni del serpente? non lo so attento oppure i raggi laser che sono all'interno del serpente non penso che sia i raggi laser ok allora vediamo siamo fuori bene siamo tornati fuori nel deserto qui c'è un uovo gigante troppo bello wow no ma l'ambientazione è bellissima guarda ci sono anche tipo le ventole per i mulini a vento come si chiamano? voglio restare qua a fare il cowboy anzi la cowgirl la stazione di senta c'è un toro c'è un toro anche a me mi ha spedito mi sono spaventata come dobbiamo fare adesso con il toro qui? no io voglio vedere vitale che vola a causa del toro dai no no fai volare vitale no io lo faccio lo faccio mi ha fatto volare cosa hai fatto? il toro mi ha colpito ma io ero seduta qua ok in questa sedia quindi mi sono salvata ok provo ad affrontare il toro di nuovo che succede? ha fatto volare anche te? si beh ovviamente essendo dei cowboy dovevamo affrontare un toro è certo aiuto ok qua sopra non ci vende no ti ho preso pure la stagia mobile alla fine bisogna stare super attenti da che parte bisogna andare? forse ancora non mi ha visto ok no mi ha visto ti ha visto? si allora però qua non può raggiungermi quindi devo salire forse qua sopra via 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 sono riuscito sono riuscito a salvarmi sul tetto io ce l'ho fatto stando sul tetto da qua non può prendermi dai ti aspetto alla train station ma tu come hai fatto? eh perché io sono troppo bravo devo saltare giù si dai ce la puoi fare ce la puoi fare vai tranquilla aiuto ora mi rincorre brava evviva ok entriamo stiamo sul treno sul treno no io sono da sola ma tu dove sei? sei sul tetto ecco tu sei sul tetto ecco d'oro è troppo bello il treno sta andando sta attraversando il deserto attenzione qui c'è uno scorpione gigante eh? si mi ha spiaccicato là sotto mamma mia è bruttissimo no devo ricominciare tutto da capo non ci credo devi riaffrontare il toro si oh no povero vitale tu sei riuscita a passare? si ho attraversato lo scorpione ma ci sono un sacco di altri ostacoli tipo il petrolio il petrolio? ecco vitale è riuscito a tornare non cadere nello scorpione mi raccomando eccomi ah meno male allora devo saltare su questi barili di petrolio si vai avanti ci sono sembra di essere in un film western si è bellissimo che cosa sono queste? no lo so ma devi evitarle non mi direi che devo riniziare tutto da capo no no ok bravo oh io sono avanti via sono qui nel carbone dai ti aspetto ma te ti sei sfracellata? si perchè sono così difficili? via wow sono nella locomotiva sbrigati eccomi altro carbone? nooo è un cadutaggio dal treno ok riproviamo vai è difficile ehi qualcuno mi ha salutato c'è scritto ciao Anita e si è sfracellato non ci credo perchè è così difficile? ok con capo vai piano 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 aspetta non qua devo andare di qua brava si è meglio adesso devo cercare di non cadere dal treno dai ci sei quasi devi saltare nella locomotiva adesso uno due tre seee ce l'ho fatta e ora? scendi giù ha vinto il premio winner's badge si ho già preso il badge ce l'abbiamo fatta siamo qui che bello che cosa servono queste? oh un cavallo ho preso un cavallo che bello ma perchè siamo in piedi sul cavallo? wow possiamo andare in giro col cavallo ma che figo guarda ma dove possiamo andare? oh che bello possiamo rifare tutte le escape room col cavallo che non cade nelle sabbie mobili no vedi non sprofonda che figata che bellissimo cosa facciamo però a salire sulle scale qui col cavallo? basta che salti wow troppo bello bellissimo che hanno messo questo cavallo mi sono bloccato nelle sabbie mobili col cavallo dove sei? che bello sono qua ecco ti aspetta ti raggiungo ehi però hai piano ho un'idea facciamo una gara ok aspetta partiamo da qua vieni da dove? Anita non sa guidare il cavallo ce l'hai la patente? eccomi dove dobbiamo andare? una gara dobbiamo arrivare alla locomotiva rossa del treno chi arriva per primo vince va bene 3 2 1 avvio dove è vitale? mi sta raggiungendo? nooo devo riuscire a raggiungere ma io non ti vedo sono già arrivato sono qua fianco a te non ti vedo nooo l'ho raggiunto prima vitale saltiamo sul treno col cavallo wow no non sale si 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 sale sul treno salta yeee che bello è stata troppo divertente questo è skype room davvero stupendo lasciate un mi piace per vederne altre scriveteci nei commenti il vostro momento preferito e ora vi lasciamo qua 4 caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video cliccate su quello che preferite buona visione ciao